Benvenuti ragazzi sul canale di Giochi Next Gen, siamo tornati oggi su Dragon Ball Xenoverse dopo il primo episodio Allora ragazzi io ho sbloccato le missioni parallele parlando con Trunks e questa è una missione che mi ha dato, il primo è un tutorial non ve l'ho portato E' un torneo mondiale di coppia, dobbiamo sconfiggere Yamco, Krillin e Tensin, quindi io direi di fare questa missione insieme, andiamo subito a vedere come si svolge Ragazzi eccoci qui, posso scegliere il mio personaggio, o Goku, o Junior, o Radice, io ragazzi ovviamente uso il mio personaggio E poi devo scegliere due alleati, allora Goku e Junior ovviamente Ok ragazzi ecco qua, condizione di vittoria, sconfiggi Yamco, Krillin e Tensin, condizione di sconfitto, tutti i PS di squadra e sauriti, tempo scaduto Ok ragazzi iniziamo subito cattivi e cazzuti, evidenziamo subito un tunnel, andiamo ad attaccarlo, subito quattro Tensin che però ci attacca Allora procediamo noi con i colpi su Tensin, andiamo a colpirlo, ci aiuta l'attacco, ma solo Tensin, eccolo qua colpiamolo da dietro Tensin Ho subito molto forte Tensin, ragazzi, bastardo Proviamo a farlo Cazzi proviamo ancora a colpire Tensin, cresce in pieno Eccolo qua ancora I miei due compagni però non hanno subito danni, vedo da lì Abbiamo 15 minuti massimo No ragazzi no Non è buono Non è buono Ma la reale battaglia è andata in un'altra mano Ecco qua ragazzi io voglio però Dove è Tensin? Eccolo Tensin ragazzi E allora subito attacchiamolo noi cazzuti cattivi Bastardo Ancora qua ragazzi Non facciamo discese strane perché se andiamo fuori da Rindri abbiamo perso Cazzo qua dobbiamo fare attenzione Andiamo ad attaccare un po' qui Che poverino Ci vediamo dov'è Tensin Tensin, Tensin Si toglie sempre davanti Tensin Eccolo L'avevo evidenziato E' tutta questa quindi Che succede Goku? Goku di una sera all'altezza Beh Se ti fai battere a questi tre Goku mi sa che C'è qualcosa Che non quadro Ma vediamo se riesco finalmente a battere Yampo Qua K.O. Yampo ragazzi K.O. Yampo Andiamo ora su Tensin Subito Vediamo K.O. anche Tensin Ragazzi Proviamo a far di qualche mossa speciale Lui ci ha provato a colpire Non ce l'ha fatta però E allora qua Ancora qui Colpo su colpo Tensin E' rimasto solo Krill Ragazzi Povero Krill E' stato sempre molto sfortunato Anche nei cattoli animali Ancora anche qui Rimane da solo Contro tre Ragazzi E' qua però mi ha dato un bel calcione Che bastardo E' beccati questa allora Eh quindi E' stato sconfitto ragazzi Attenzione qua Attenzione Che succede? Ragazzi Junior Junior cattivo praticamente Quindi ragazzi qua Sono cazzi Allora attacchiamolo in tre Attacchiamolo in tre Attacchiamolo ancora Però proviamo ad attaccarlo ragazzi Qua grande mossa Grande mossa ragazzi Che è proprio una mossa bellissima 29 colpi messi a segno Il mio personaggio si sta caricando ragazzi Allora qua dobbiamo colpirlo Ragazzi benedetto bastardo Traffica di energia ancora Guardate ragazzi il mio personaggio è cazzuto cattivo Vedete non male ma la battaglia poi non ho letto Ragazzi mi sta facendo male anche di Non fare molta attenzione Ragazzi attenzione che qua non può far male C'è pochissima energia ragazzi Proviamo le rapiche a distanza Perché io non penso che A me non conviene molto avvicinarmi In questo caso ragazzi Ragazzi attacchiamolo a distanza Se è meglio Lasciamolo un po' ai miei altri Che c'è pochissima energia Proviamo ora l'attacco L'attacco fulmino subito Oh qua vediamo se ce la faccio Non è ancora morto Pettiamolo così a distanza ragazzi Poche colpetto a distanza E non fa mai male Dai Goku cazzo attaccalo Ragazzi sto con po' che energia E allora Che bastardo questa me la paghi E ora ti vengo a prendere Ma hai detto figlio di tuttana Ragazzi mi ha fatto male Aia ragazzi mi sta per distruggere Attenzione è sparito No ragazzi mi ha distrutto K.O. Vediamo se mi aiutano i compagni Ok ragazzi mi hanno appena rianimato E ora sei morto Tutto bastardo Questa me la paghi Vedete vi lasciatelo a me Impressione suprema Ok Ok ragazzi E' stata duro A battere tutti Però ce l'abbiamo fatto Vediamo il grado Grado A E non Z Perché siamo caduti una volta Giustamente Quindi comunque Questa missione L'abbiamo superata Nuovo livello Ottimo Ok ragazzi Allora abbiamo superato Anche questa missione parallela E lì come vedete Alle mie spalle C'è Radici Che sicuramente ci vorrà dire Qualcosa Che vedremo però Nel prossimo episodio Come sempre Vi invito a lasciare Un like Se vi sta piacendo Questa serie Vi invito ovviamente A commentare Se volete dirmi qualcosa Se volete aiutarmi A migliorare il personaggio Perché io ragazzi Ho visto che si può Potenziare Non conosco ancora bene Le mosse Quindi se volete Darmi subito una mano A migliorare Giochi next gen Ditemelo pure Se non l'avete fatto Ragazzi Iscrivetevi al canale Suggerite i vostri amici Condividete questo video Per farmi conoscere Ci vediamo al prossimo video Appunto Qui da Angelo Nero 33 Tutto Bella